Accadastamento in corso di costruzione, è possibile? Lo vediamo in questo video! Ciao, sono Giara Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. Le pratiche del DOCFA fanno parte dell'insieme di documenti che vanno presentati per poter finire i lavori, appunto per la fine lavori. Ma c'è un momento esatto, un timing che va rispettato, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni qualora fosse eccessivamente tardivo, oppure si rischia di doverlo rifare se si fa troppo in anticipo. Quindi seguimi fino alla fine di questo video perché ti spiego esattamente che cos'è l'accadastamento, quando va fatto, quando non va fatto e che tempistiche bisogna rispettare. L'accadastamento consiste nel censimento di un immobile. Con l'accadastamento infatti ciascun immobile ha una propria identificazione, attraverso foglio, mappale e subalterno si individua l'ubicazione dell'edificio e gli viene assegnata anche una specifica categoria. Quindi dalla a scendere, attraverso un codice alfanumerico, si identifica che tipo di edificio si tratta. Quindi nell'ACI sono tutti gli edifici residenziali e così via. Un po' come quando un bambino nasce e viene registrato all'anagrafe e gli viene assegnato un codice fiscale. Quindi in maniera simile, attraverso i dati che si derivano dall'accadastamento, è possibile identificare l'immobile e saperne quali sono le sue caratteristiche principali. Quindi ubicazione, destinazione d'uso, rendita cadastrale, superficie e così via. Ma per cosa è necessario l'accadastamento? La dichiarazione DOCFA, che sta per documento cadassi fabbricati, non deve essere sempre presentata. Infatti va presentata per tutte le unità immobiliari di nuova costruzione e per le quali appunto si fa l'accadastamento, unità per enti edificati e beni immobili non produttivi di raddito urbano. E inoltre va fatta anche per variazioni dello stato, della consistenza, della destinazione d'uso delle unità immobiliari. Quindi in questo caso parliamo di variazione. Quindi nell'ambito diciamo dichiarazione DOCFA abbiamo l'accadastamento per le nuove costruzioni e la variazione appunto per variazione è una delle categorie principali dell'accadastamento dell'edificio. Ma quindi abbiamo detto che non è sempre necessario. Quindi quali sono gli edifici, gli elementi che sono esclusi dall'obbligo di accadastamento? Abbiamo manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri, serre, vasche per l'acquacultura, manufatti isolati o privi di copertura, tettoie, porcini, pozzi e simili, edifici di altezza inferiore a 1,80 m e con una volumetria inferiore a 150 m3, quindi fondamentalmente luoghi non abitabili, manufatti precari o privi di fondazioni, infrastrutture di reti pubbliche e, attenzione, fabbricati in corso di costruzione o definizione. Quindi già abbiamo dato una risposta parziale alla domanda iniziale. È possibile fare l'accadastamento per un edificio o un corso di costruzione? No, l'edificio o l'unità abitativa deve essere conclusa. Ma capiamo esattamente quando va effettuato l'accadastamento perché c'è un timing preciso. Infatti il termine di presentazione delle dichiarazioni al cadastro è fissato in 30 giorni, diciamo 30 giorni, non 30 giorni lavorativi, 30 giorni utili dal momento in cui il fabbricato o l'unità abitativa è divenuto abitabile o servibile all'uso. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che un progetto può cambiare in corso d'opera, quindi ci possono essere delle modifiche. Nel momento in cui un'unità abitativa diventa abitabile vuol dire che ormai i giochi sono fatti e non ci sono altre possibili variazioni alla consistenza piuttosto che alla superficie, alla distribuzione degli spazi interni. Proprio per questo nel momento in cui un edificio diventa abitabile, un'unità abitativa diventa abitabile, si può fare la pratica di accadastamento e quindi la pratica DOCFA e di conseguenza poi procedere con la fine lavori. Attenzione perché abbiamo quindi un timing ben preciso, 30 giorni dal momento in cui l'edificio diventa abitabile. Che cosa accade quindi se invece si ha una presentazione tardiva dell'accadastamento? Beh, si va incontro a sanzioni pecuniarie e non sono nemmeno così leggere. Infatti, secondo le normative vigenti, il cantiere è sanzionabile laddove appunto c'è un ritardo nella presentazione di questi documenti perché potrebbero esserci varie motivazioni per il ritardo e di conseguenza vanno rispettate queste tempistiche, altrimenti si viene sanzionati. Quindi valla a spiegare poi al cliente perché deve pagare una multa perché tu ti sei scordato di presentare l'accadastamento. Direi che è meglio rientrare in questi fatidici 30 giorni. Ma come viene controllato l'accadastamento? Perché potresti anche dire, vabbè, io me ne prego, sti cavoli, insomma, non faccio tornare le date tra la data di accadastamento e la data di fine lavori e mi faccio quadrare i tempi. Allora, attenzione perché ovviamente l'agenzia effettua dei controlli sulle dichiarazioni presentate e richiede eventuali modifiche laddove riscontrasse che ci sono delle cose non congrue. Pena la nullità della presentazione dell'accadastamento e di conseguenza della fine lavori. Inoltre, ovviamente, devono fare scopo a una serie di cose. Non possiamo farci tornare le date, anche perché nella fine lavori va allegato l'accadastamento presentato e le tempistiche tra la presentazione della fine lavori e la data di avvenuto accadastamento devono tornare. Quindi l'agenzia comunque si riserva di fare dei controlli e contro questi accertamenti laddove fossero presentate delle sanzioni oppure delle richieste di modifiche si può presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per ogni territorio entro 60 giorni dalla notifica. Quindi l'accadastamento va effettuato entro 30 giorni dalla resa abitabile delle unità abitative. Detto questo, abitative, insomma residenziali, uffici, quello che sia. Detto questo, in seguito anche poi va fatta alla fine lavori. Detto questo, l'amministrazione può fare un controllo e dire va tutto bene, ci sono delle cose da modificare o potrebbe proporre delle sanzioni laddove lo ritenesse opportuno. Questo non vuol dire che uno se le deve subire e basta, ma ci sono 60 giorni di tempo per appunto la notifica di eventuali cose da sistemare e fare. Mi è capitato di che uno dei miei cantieri fosse sotto accertamento perché a random fanno dei controlli, quindi mi è capitato di essere sotto questi controlli e in particolare contestavano il fatto che c'era secondo loro un edificio che risultava dalle foto da satellite, quindi spesso è così che controllano, che non era stato dichiarato. In realtà si trattava appunto di una serra senza fondamenta, senza niente, in stato fatiscente, quindi come ti ho detto prima non rientrava tra le cose che andavano accadastate per legge, quindi non era stata inserita nell'accadastamento, ma loro che cosa fanno? Mandano la lettera di richiamo con previa multa che tu puoi contestare, quindi sarà fatta tutta la lettera di contestazione, di cose, foto per far vedere che avevamo dichiarato tutto quello che c'era da dichiarare e che quello era praticamente un rudore che stava cadendo a pezzi e che non aveva fondazione, era una serra, insomma era una cosa... e quindi poi insomma tutto è andato liscio, non ci sono stati altri problemi perché tutto era stato fatto secondo le regole. Quindi non ti spaventare se il tuo cantiere dovesse avere un accertamento, la norma, a campione il fanno, quindi potrebbe avere un accertamento il tuo cantiere. Se hai fatto tutto bene, fai sempre le foto di quando tu fai le cose perché queste cose potrebbero anche avvenire tempi dopo e non sai cosa il cliente può averci fatto sul terreno nel momento successivamente. Quindi fai sempre le foto che attestano quello che... in modo da verificare quello che tu stai certificando e così sei a posto per eventuali accertamenti futuri. Non mi ricordo quant'è la tempistica entro il quale possono fare gli accertamenti, comunque possono arrivare anche a distanza di parecchi mesi, perciò tieniti sempre un'ampia documentazione fotografica. Voglio darti anche un consiglio spazionato sulla redazione dell'accadastamento. Allora, questo video è proprio per parlare del timing, quindi da rispettare. Il fatto che vada fatto entro 30 giorni, da quando l'unità diventa abitabile, non vuol dire che non te lo puoi preparare prima, nel senso che la data di presentazione deve essere quella giusta. Ma tu puoi iniziare a prepararti il doc file, il file doc fa con tutta la compilazione, con la planimetria, i vani, le cose tutte inserite già prima quando il cantiere sta per finire. Questo è un consiglio che io do ai miei corsisti che appunto seguono il corso sull'accadastamento doc fa, il corso professionale intendo. Il fatto che ci siano delle tempistiche da rispettare non vuol dire che ci dobbiamo ridurre all'ultimo minuto per preparare le cose. Possiamo prepararci il grosso della documentazione prima, in modo tale che quando il cantiere effettivamente è al termine si procede secondo i termini della documentazione, quindi i famosi 30 giorni, ma non ci arriviamo affogati, quindi non c'è cosa peggiore che arrivare con i tempi stretti sotto chiusura, perché poi sono tutta una serie di documenti che vanno presentati a cascata, quindi l'accadastamento poi segue la fine lavori che deve avere la data dell'accadastamento, è allegato l'accadastamento fatto, perciò tutto è collegato. Se ti riduci tutto all'ultimo minuto, comunque non è proprio, cioè per quanto è relativamente semplice fare un accadastamento, comunque c'è tutta una procedura che richiede fisicamente proprio del tempo per poterlo fare. Per saperne di più in maniera completamente gratuita sull'accadastamento, ti ho preparato un mini corso che si chiama Pillole di Docfa. Per iscriverti ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto e compilare l'apposito form a cui verrai indirizzato con i tuoi dati. Fai attenzione a scrivere bene la tua email perché proprio via mail ricevi appunto queste pillole di Docfa in maniera completamente gratuita. Se il mondo dell'accadastamento ti ha fatto tribolare o ti sta facendo tribolare, lasciami iscritto Docfa nel primo commento sotto a questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!